Nei momenti di difficoltà, quando conta, risorge Ciro Immobile, la storia di questa Champions League bianco-celeste, vittoria vitale per il momento, per il girone, adesso vediamo, siamo lì sul Trespolo per comunque dovesse vincere l'Atletico Madeda Rotterdam, che io non ci credo tanto, ma ci spero saremmo passati, che è un grande risultato, pur essendo un girone, tanti l'hanno definito da Europa League, però voglio dire, noi siamo una squadra che in Champions da quando la FIFA ci siamo andate ben poche volte e quindi comunque guadagnarsi gli ottavi per la seconda volta di fila, nel senso che l'ultima volta con Inzaghi ce l'abbiamo fatto ugualmente, sarebbe un'ottima cosa in un girone che sarà anche facile, però comunque Final e Atletico Madrid sono due squadre vere, sono due squadre forti e sono soprattutto squadre in ottima forma. Malselti che era un po' la cenerentola del gruppo e infatti è stato così, anche se poi là a Glasgow abbiamo faticato e abbiamo giocato male. Oggi un po' meglio, diciamo che loro non hanno creato quasi nulla, noi poco, però alla fine io l'ho sempre detto immobile, se capisce che può essere decisivo anche entrando non un quarto d'ora, perché bisogna metterlo prima, come oggi al 61esimo, mezz'ora, 20 minuti, diventa un giocatore ancora più incisivo secondo me, perché per caratteristiche ciro immobile, come attaccanti, come caratteristiche anche fisiche di movimenti che fa, eccetera, è proprio l'identikit perfetto del bomber da mettere negli ultimi 20 minuti, poi ovvio che lui vuole giocare titolare, che quando è in forma va schierato al primo minuto, però è il giocatore perfetto per subentrare e decidere e inventare, perché il secondo gol, signori, se l'è inventato immobile, il gol d'attaccante vero, il primo, di rapina, entrambi le reti, non a caso, perché non accade mai nulla per caso, nate da Isaacsen, che comunque sia, nonostante le scelte sbagliate, è stato l'unico alla fine a tirare in porti in modo pericoloso, fino poi, ripeto, alla rete che ha stappato la latina di ciro immobile, nonostante sia troppo innamorato del pallone, però è vivo, è vivo, ci prova, non molla, dribbla, sinistro, destro, rientra, può fare, Cioè, c'è il giocatore, l'anno scorso ha fatto più di 20 gol nel Midtilan, quindi vuol dire che uno che veda la porta si deve solo sbloccare, però deve giocare di più, deve partire dal primo minuto, entrare, ma fare mezz'ora, non entrare 10 minuti, cioè Anderson oggi l'abbiamo visto, debbo dire che forse mi è piaciuto più a sinistra, perché magari rientrando può essere incisivo, però è troppo molle, Zaccagna di là, che adesso è rotto e non ci sarà, però quest'anno è un disastro, possiamo dirlo, è poco impattante, Pedro, ormai Pedro è quello che è, può farti solo proprio gli ultimi 20 minuti, quarto d'ora, magari a volte essere anche decisivo, come è stata l'andata in Scozia, però i Zaccagna sono giocatori su cui dobbiamo puntare, quindi bene la staffetta, Castaggiano si immobile, con i cambi poi di Maurizio Sarri al momento giusto, un po' meno bene il centrocampo, perché Rovella non può essere questo qui, oggi è una partita che avevi lo spazio, hai avuto anche delle transizioni positive in cui potevi decidere, non l'hai fatto, ha provato due tiri che mi hanno spaccato le finezze di casa mia, cioè non esiste in una partita così decisiva che col sinistro sbilanciato da 30 metri il calcio importa, non deve esistere, Gendosi abbastanza vivo, anche lui un po' farraginoso, ma il giocatore, diciamo che la prestazione la fa sempre, la tenta sempre, anche Luis Alberto dopo un inizio buono, comunque si vede, quando lui salverte in campo e quando no, cioè si nota subito, però è stato un po' anche lui avvolto dalla mediocrità, mettiamola così, voglio fare comunque un encomio nonostante tutto a Patrick e Gila, poi povero Patrick, tra un po' gli danno anche un rigore alla fine che non sarebbe stato decisivo per il risultato, però era inesistente, sarebbe stato inventato, perché comunque sì, sono due giocatori che non hanno mai giocato assieme, che hanno anche caratteristiche simili, non prettamente proprio da difensore centrale pure e tutto, ma hanno fatto il loro contro una squadra che è già fuori da tutto nel girone, che è mediocre, però un plauso perché comunque non è scontato, perché comunque anche a Salerno sono stati due dei meno peggio, non abbiamo subito gol, diciamo in particolare per colpa loro, e vabbè, Maruzi e Celasi hanno fatto la loro partita attenta, Maruzi forse addirittura ha provato a fare qualcosina in più in fase offensiva, però comunque non siamo guariti, siamo ancora terribilmente convalescenti perché creiamo poco, addirittura oggi ribadisco, abbiamo avuto delle situazioni, diciamo in contropiede, in ripartenza, in cui potevamo incidere di più, non l'abbiamo fatto, anche Casteljanos deve fare di più, anche se è un giocatore che mi piace, soprattutto dal punto di vista tecnico, e ovvio che, l'ho detto, paradossalmente adesso è più facile fare bene in Champions, perché in Champions le partite si preparano da sole, c'è un'area diversa, si azzera tutto se vogliamo in questa competizione qua, quindi paradossalmente possiamo trovare più gioie qui, certo, il campionato io quando guardo la classifica mi piange al cuore, undicesimi, sei sconfitto, dobbiamo ritrovare noi stessi, ora abbiamo una partita sulla carta abbordabile, ma di facile non c'è nulla sabato col Cagliari, e comunque Cagliari in salute, Ranieri a noi fa spesso scherzi, quindi bisogna vincere, bisogna dare continuità a questa vittoria, però ora parlando solo di Champions League, diciamo che il percorso è stato buono, al di là di come andrà, secondo me alla fine ce la giocheremo là, al Vanda Metropolitano, e non sarà assolutamente un'impresa facile, però vediamo, magari stasera i Colcio Nero ci regalano una gioia, e così saremo passati, e poi ti vai a giocare il primo posto là, però magari anche vivendo la partita in maniera diversa e più gioiosa, perché per noi la Champions deve essere, ripeto, una gioia, ma comunque una competizione provante, in cui, voglio dire, mettiamo tutto noi stessi, perché almeno le ottavie magari, poi se ti va bene con il sorteggio anche di più, si possono ottenere. Ragazzi, like al video, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, trovate tutto in descrizione. Bella, ciao! Ciao!